Un eminente storico del cinema italiano, Giampiero Brunetta, ha definito Dante Alighieri il più importante apostolo del verbo dantesco nella storia della cinematografia e lo stesso Federico Fellini ha definito i suoi film delle discese all'inferno con sprazzi di paradiso. Indubbiamente nell'opera del maestro riminese possiamo trovare tanti riferimenti, tanti echi di Dante Alighieri, a partire per esempio da quelle che possono essere considerate le forme simbolo anche della divina commedia come la selva oscura, il viaggio, la guida, il sogno, la presenza salvifica della donna. Tutti questi elementi possiamo leggerli nell'opera di Fellini a partire fin dai suoi esordi. Poi naturalmente ci sono alcune opere in cui è maggiormente presente questo riferimento a Dante Alighieri. Molto spesso questo riferimento diventa anche testuale. È il caso del film Amarcord, un film in cui a un certo punto abbiamo una scena in cui il giovane protagonista, Titta, interpretato da Bruno Zanin, prova un approccio sessuale con la prosperosa tabaccaia. Ecco che siamo all'interno del negozio di questa donna e vediamo sullo sfondo una pubblicità che ha proprio l'effigie di Dante, la pubblicità di un immaginario farmaco, il fosforil. Quindi Dante diventa, come dire, sotto il profilo grottesco un riferimento di questa iniziazione sessuale del personaggio di Titta. Ma dicevamo per esempio della presenza nel cinema di Fellini della donna come angelo, come salvatrice. Sicuramente a questa categoria appartiene l'Anita Eckberg della Dolce Vita che invita Marcello Mastroianni a bagnarsi dell'acqua purificatrice della fontana di Trevi. Ma anche lo stesso personaggio interpretato da Valeria Ciangottini che cerca di indicare alla protagonista Mastroianni una sorta di via della redenzione. Ma sicuramente il più dantesco tra i progetti di Federico Fellini fu quello del viaggio di G. Mastorna, un film che rimase semplicemente a livello di progetto. Non venne mai realizzato, ma fu concepito a partire dalla metà degli anni Sessanta. Cos'era il viaggio di G. Mastorna? Era un film che raccontava il viaggio nell'aldilà di un uomo, un musicista, che è effettivamente l'alter ego di Federico Fellini. E' questa una storia che non ha mai trovato la strada della realizzazione cinematografica, ma che poi è stata illustrata a fumetti da Milo Manara all'inizio degli anni 90. L'aldilà in cui si ritrova il protagonista del viaggio di G. Mastorna è un aldilà decisamente dantesco, perché il protagonista sperimenta la propria vita passata, incontra le persone che hanno costellato la sua avventura esistenziale in una sorta di purgatorio che gli permetta a un certo punto di accedere finalmente al paradiso, un paradiso fatto semplicemente di musica. Ecco quindi che Dante è evidente e chiaro come sia presente nell'opera di Federico Fellini. Spesso i film di Fellini sono un po' concepiti come dei gironi, delle bolge, i personaggi si strutturano come appartenenti a delle categorie quasi di dannati, pensiamo per esempio alla Dolce Vita. E dicevamo anche la presenza in Fellini della guida, ecco nella Dolce Vita sicuramente la guida è Steiner, l'intellettuale che con la ragione cerca come dire di riscattare l'esistenza dannata del protagonista, del giornalista interpretato da Marcello Mastroianni. Ma poi questa guida, questo Virgilio contemporaneo si suicida, ecco allora che rispetto a Dante in Fellini abbiamo sempre questa caratteristica che lo distingue poi nettamente dal modello del sommo poeta. Fellini non ha un'idea positiva della provvidenza, Fellini non ha la religiosità che anima Dante Alighieri, ma come dire ci crede poco, ci crede meno e soprattutto non crede anche che l'umanità possa essere in qualche modo portata ad autoriscattarsi, neppure con la ragione, in quel caso di Steiner, piuttosto che con la fede, la fede, la religione pur presente nell'opera cinematografica di Fellini è spesso ridotta a superstizione, anche lì possono essere molte le scene che possiamo rievocare alla memoria anche degli spettatori. Quindi Fellini e Dante, molti anni fa ci fu addirittura un convegno a Ravenna su questo argomento per dire effettivamente quanto fosse presente anche in Fellini questo riferimento a Dante e alla Divina Commedia. Nel corso della vita Fellini fu stesso richiesto di realizzare un film sull'inferno, soprattutto i produttori americani gli chiesero di realizzare questo progetto, ma Fellini non volle farlo, meglio forse lo fece, ma un film come Toby Dummett, più che un film un episodio, l'episodio di un film collettivo che si chiama Tre passi nel delirio, è anche quello forse un adattamento dell'inferno. È la storia di un attore, un attore di Hollywood che arriva in Italia per interpretare un western all'italiana, siamo all'epoca in cui sono esplosi i film di Sergio Leone, interpretato da Terence Stamp, questo attore, e vive letteralmente una discesa agli inferi fino a trovare la morte. Vive in un mondo, quello della contemporaneità, di quella fine degli anni Sessanta, che Fellini dipinge, siamo soprattutto nell'ambito del mondo dello spettacolo, come effettivamente un inferno. Quindi forse Fellini, pur non avendo mai realizzato un film sull'inferno in chiave letteraria, forse appunto con Toby Dummett, con questo episodio di Tre passi nel delirio, ha dato la sua versione personalissima, peculiare dell'inferno dantesco. Fellini è dantesco anche dal punto di vista formale delle immagini, delle visioni su pellicola. Per esempio pensiamo a come finiscono i film di Federico Fellini. Otto e mezzo, per esempio, si conclude con un girotondo di tutti i personaggi che hanno dato vita alla storia del film sulle notte di Nino Rota, come fossero delle anime che vagano, come delle illustrazioni dantesche di Doré. E poi anche il finale, per esempio, pensiamo di La dolce vita, è un finale in cui il protagonista, il giornalista interpretato da Marcello Mastroianni, si ritrova su una spiaggia con il mare all'orizzonte, con questa ragazzina angelo interpretata da Valeria Ciangottini, che gli dice qualcosa che però lui non riesce a recepire, perché ancora deve affrontare il suo purgatorio. È forse alla fine dell'inferno, perché grazie alla luce della ragione ha capito che la sua vita effettivamente dedica solo al peccato, ma deve ancora attraversare un regno prima di arrivare al suo paradiso. Quindi Dante, la Divina Commedia, anche come macchina di immagini. D'altra parte, si dice molto spesso che Dante Alighieri è il primo sceneggiatore della storia del cinema. Lui scrive, ma nello stesso tempo ci fa anche vedere. Scrive e utilizza la penna quasi come fosse una sorta di anticipazione della macchina da presa, che utilizza anche nei suoi obiettivi, per esempio lo zoom, quando vuole isolare un'anima su un gruppo di tante anime. Per Paolo Pasolini e Dante Alighieri sono molti i legami tra questi due grandissimi intellettuali, poeti, scrittori, uomini di cultura. Certo, si parva lì, forse non si può paragonare per Paolo Pasolini e Dante Alighieri, ma certo che Pierpaolo Pasolini nella sua epoca ha costituito una sorta di prosecuzione anche di certe idee dantesche applicate al mondo culturale contemporaneo. Dante Alighieri è presente nell'opera di Pierpaolo Pasolini fin dal suo primo film, a Cattone. Siamo nel 1960 e nella primissima immagine cinematografica di Pasolini abbiamo una citazione del canto quinto del Purgatorio, proprio quella situazione che riguarda Bonconte da Montefeltro, che viene conteso tra un angelo e un diavolo. La storia naturalmente è famosissima. Bene, questa è proprio la prima immagine, questo cartello è la prima immagine del cinema di Pierpaolo Pasolini. Quindi è come se Pasolini ci invitasse a leggere la sua opera, non solo cinematografica, con il frintro di Dante Alighieri. Perché Pasolini sentiva di essere così vicino a Dante Alighieri? Sicuramente aveva degli elementi in comune, a cominciare dall'autobiografismo. Pasolini racconta spesso se stesso, racconta il mondo che conosce. E poi, come Dante Alighieri, Pierpaolo Pasolini era decisamente critico rispetto all'epoca che viveva. E anche in Pasolini, così come in Dante, è molto presente questo elemento del sacro, un elemento che viene per certi versi pervertito dalla contemporaneità. Dopo questo esordio, per così dire, dantesco, Pierpaolo Pasolini approccia Dante e la Divina Commedia direttamente, in senso quasi letterale, con l'opera Divina Mimesis. Ed è un'opera che è stata scritta tra il 1963-64 fino al 1967. È un'opera che lo stesso Pierpaolo Pasolini dichiarò di aver composto a strati. Erano parti che si aggiungevano, che si accumulavano a creare anche un racconto assolutamente magmatico. Si tratta di un'opera letteraria, non di un film, ed è il racconto dello stesso Pierpaolo Pasolini che compie un viaggio, diciamo, tra sogno, realtà, immaginazione, allucinazione, nell'aldilà. Un'aldilà che poi è molto simile all'aldiquà in cui incontra personaggi che ha conosciuto e che conosce nella sua vita, per così dire, terrena. E questo aldilà, che è molto un'aldiquà, è strutturato in gironi, in volge, dove sono espiati, per così dire, quelli che Pasolini ritiene i peccati della contemporaneità, come per esempio l'omologazione, il servilismo soprattutto degli intellettuali e degli uomini di cultura. È, per certi versi, quest'opera l'affresco di una sorta di inferno neocapitalista. E chi è che guida il poeta Pasolini in questa avventura nell'aldilà? È un Virgilio particolarissimo, che è lo stesso Pierpaolo Pasolini degli anni Cinquanta. Il Pierpaolo Pasolini degli anni Cinquanta, che era stato un poeta civile, impegnato, che aveva in qualche modo cercato di cambiare con la sua opera la società che lo circondava. Qualcosa che evidentemente non è più possibile per il Pasolini degli anni Sessanta, che quindi è decisamente più nichilista del se stesso degli anni Cinquanta, e quindi si ritrova egli stesso all'inferno, come tanti secoli prima era finito all'inferno Dante Alighieri. Ma la Divina Commedia e Dante Alighieri continuano poi nel tempo ad essere un riferimento costante nell'opera di Pierpaolo Pasolini. In un film come Mamma Roma, nella scena del manicomio sanitario criminale in cui si ritrova il giovane protagonista, c'è un paziente che declama il canto quarto dell'inferno. Quindi ecco, ancora una volta, Dante Alighieri per commentare l'inferno di un protagonista della contemporaneità. Ma detto questo, naturalmente c'è sicuramente un film che è in assoluto in più dantesco, è di Pierpaolo Pasolini anche nella sua struttura narrativa, e questo film è Salò o le 120 giornate di Sodoma, un film del 1975, come noto, si tratta dell'ultimo film diretto da Pierpaolo Pasolini. È un film tratto, naturalmente come dice il titolo stesso, da Desad, ma è un film anche molto dantesco, tanto che Pierpaolo Pasolini rilevava già a suo tempo quanto lo stesso Desad avesse ripreso da Dante. Perché questo film è, dicevo, strutturato in modo molto simile alla Divina Commedia, in particolare l'inferno, perché è diviso in quattro parti. In queste quattro parti abbiamo l'antinferno e poi abbiamo tre gironi. Sono i tre gironi in cui i giovanissimi protagonisti della pellicola finiscono per sperimentare letteralmente un inferno terrestre. Questi tre gironi sono il girone delle manie, il girone della merda e il girone del sangue. Il film è tratto da Desad, ma è ambientato nella Repubblica Sociale, quindi ecco che in qualche modo Pasolini attualizza la Divina Commedia portandola in un momento anche storico, in cui il nostro paese ha letteralmente sperimentato un inferno, l'inferno della guerra, della guerra civile, l'inferno della violenza, un momento appunto storico che può essere letto in chiave anche dantesca. Ma tutti questi elementi nel film di Pasolini, come dire, cortocircuitano in un'opera che oggi davvero ci sembra e ci appare insostenibile per quanto la violenza grafica raggiunge dei livelli e parossistici. Ma chiudiamo questa riflessione su Dante e Pasolini con una citazione anche ironica e divertente. Nel film Uccellacci e Uccellini a un certo punto i due protagonisti, come Notto Totò e Ninetto Davoli, nel loro lungo peregrinare si ritrovano in un stranissimo convegno, che è quello dei dentisti dantisti. Ecco allora che anche in Pasolini il riferimento a Dante, come per esempio in Fellini, può assumere anche un aspetto grottesco e comico, eppure è sempre presente. C'è un altro elemento fondamentale che accomuna per Paolo Pasolini a Dante Alighieri ed è questo aspetto della profezia. Dante Alighieri, sappiamo nella Divina Commedia, parla di qualcosa che avviene in un futuro che magari nel momento in cui scrive è già passato, è una sorta di profezia letteraria. Ma la profezia molto spesso è anche qualcosa che riguarda il futuro, qualcosa che deve accadere, che tanto Dante Alighieri quanto Pierpaolo Pasolini riescono a cogliere con la loro enorme sensibilità di poeti. In particolare Pasolini nel libro, nel suo personalissimo inferno che è la Divina Mimesis, a un certo punto aggiunge una postilla. In questa postilla è lui stesso che scrive, racconta di come quest'opera, la Divina Mimesis, sia costituita a strati, sia costituita da tanti blocchi, tanti tasselli che vanno a comporre un puzzle. E racconta di come uno dei tanti foglietti che l'autore scrive per comporre quest'opera verrà poi trovato nella tasca della giacca dell'autore una volta che verrà ritrovato il suo corpo. Cioè Pasolini immagina che lui stesso verrà ucciso a bastonate e all'interno della sua giacca si potrà trovare un foglietto con un pezzo di quest'opera. Ecco quindi che Pasolini prefigura la sua effettiva morte avvenuta in circostanze analoghe. Cambia semplicemente il contesto ambientale. Nella Divina Mimesis si parla di Palermo, la morte di Pasolini avviene effettivamente in circostanze simili a quelle da lui descritte a Roma, ad Ostia.